E adesso veniamo un pio a parlarvi della coppia formata da Soleil, Sorge, e Marco Cartasegna. Ricordate sicuramente che i due si sono conosciuti presso la trasmissione Uomini e Donne. Dove però lei ha scelto Luca Onestini. Anche se lui era tronista, poi di fatto è stata lei che ha scelto. Ma poi quando Luca è andato al grande fratello VIP, si è rivista con l'ex tronista Marco, ed a lì è nato tutto. Insomma ora stanno insieme da quasi dieci mesi, possiamo quindi iniziare a parlare di storia d'amore in tutti i sensi non credete anche voi. Forse se proprio dobbiamo essere precise, dobbiamo dire che qualcuna specialmente, nel web forse ci ha creduto anche un pio troppo. Infatti ha iniziato a dire che si trattava di una storia, d'amore con il piccolo in arrivo. Ossia che era incinta? Ma insomma questo è evidente che non corrisponda a verità. A svelare tutto ci ha pensato direttamente Soleil Sorge con questo commento. Insomma per il momento ci sembra di capire che si tratti di un falso allarme? Che ne dite? Soleil Sorge, e Marco, Cartasegna aspettano un figlio? Lei risponde che Insomma per il momento mi sembra di capire che non ci siano proprio i presupposti per questa notizia. Ma se proprio devo essere sincera mi sa che non manchi nemmeno troppo? Voi che ne dite?